Novena in preparazione alla festa di Santa Chiara d'Assisi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ottavo giorno. Chiara è il creato. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Sor Angeluccia da Spoleto disse che quando la Santissima Madre Chiara mandava per le elemosine, le sorelle adete al servizio esterno, le ammoniva che quando vedessero i belli alberi fioriti e ricchi di foglie, lo dassero Dio, e ugualmente quando vedessero gli uomini e le altre creature, sempre di tutti e di tutte le cose, lo dassero Dio. Salmo 32 Tu sei la nostra vita eterna, grande e amirabile, Signore, Dio onipotente, misericordioso Salvatore. Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini reti, e bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, perché reta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi, tema il Signore tutta la terra, temino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Il Signore guarda dal cielo, e li vede tutti gli uomini. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore, e ne comprende tutte le opere. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Preghiera Ci affidiamo a te, Signore. L'intercessione di Santa Chiara ci aiuti ad amare con consapevolezza e semplicità filiale la Chiesa Nostra Madre per imparare ad affidarci al Santo Padre e ai Vescovi, in comunione con Lui, con obbedienza intelligente e amorevole. Affidiamo a te, Signore, la nostra città, il nostro paese, tutti i governanti, perché si lascino guidare dal tuo Santo Spirito nella via della saggezza e del rispetto per la vita. Ti affidiamo, Signore, i nostri fratelli, che sono nella prova, i sofferenti, li ammalati. La prossimità e l'intercessione di Santa Chiara li solevi, e la tua Santa Croce salvifica li renda saldi nella fede. Santa Chiara, che desiderava donare la sua vita anche nel martirio, interceda per ciascuno di noi, perché siamo fedeli e perseveranti nella testimonianza della nostra appartenenza a Cristo nel luogo che il Signore ci ha assegnato, in Letizia. Per le comunità, le famiglie, perché tutti i membri crescano nell'amore vicendevole, tenendo fisso lo sguardo a Cristo, che ha dato la sua vita per coloro che il Padre li aveva affidato, che ha dato la sua vita per i Suoi amici, che ha dato la sua vita anche per i nemici, perdonando loro, che ha dato la sua vita sulla croce per ciascun uomo fino ai confini della terra. Santa Chiara sperimentò per lunghi anni la prova della malattia. La sua intercessione sostenga le persone ammalate, anziane, perché mai abbia posto nella loro giornata lo scoraggiamento, ma accolgano come lei questo tempo per pregare, per offrire insieme a Cristo ogni istante per i fratelli che ne hanno più bisogno. Santa Chiara intervene per salvare la sua città, interceda per ciascuno di noi, perché impariamo a confidare nel Signore e nella straordinaria forza ed efficacia della preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Chiara, prega per noi. Torreda